Come ha risposto a quanto si è arrivato a te, dobbiamo parlare solo di mia, ma vai su a Topcaccio, ti chiudi dentro e parli di mia, basta, ogni volta arriva lui, bisogna parlare solo di questa giornata, stiamo ancora mangiando. Tra l'altro, parliamo delle cose che vuoi tu, ce l'hai tutti contro, non dici mai una cosa che piace ai milanisti, cioè non lo so, c'è qua Mauro, tutte le cose che dici te le rinfaccia, c'è ordine e ti dice che sbagli, da casa non ti vogliono sentire e tu arrivi qua con i tuoi volantini. Sai cosa faccio? Ti saluto, guarda, ti saluto, se tu mi dai il permesso, chiama direttamente Ravezzani, io ti saluto, vado a casa, vado a casa, buona giornata, facciamo così, ieri sera sono qua 6 ore per Juve Roma, oggi arrivo qua ancora a Juve Roma, sentiamo Montali, sentiamo Montali, così vi faccio fare la pace a questi due.